Guardare a Maria e lasciarsi guardare da lei per imparare a essere più umili e anche più coraggiosi nel seguire la parola di Dio. E' questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla comunità del Pontificio Collegio Portoghese di Roma, ricevuti in udienza prima dell'imminente pellegrinaggio in Portogallo per il centenario delle apparizioni mariane a Fatima. Lì porterò il mio augurio di pace e speranza nel Signore, annunciato il Pontefice, come quello donato dalla Vergine ai tre pastorelli. L'incontro con la Madonna è stata per loro un'esperienza di grazia che li ha fatti innamorare di Gesù. Come tenera e brava Maestra, Maria introduce i piccoli veggenti nell'intima conoscenza dell'amore trinitario e li porta ad assaporare Dio come la realtà più bella dell'esistenza umana. Non posso non augurare lo stesso a tutti voi, cari amici. Al di sopra di ogni altro obiettivo che vi abbia portato a Roma e che vi trattenga, ci sia sempre questo. Conoscere e amare Cristo, come direbbe l'Apostolo Paolo, cercando di conformarsi sempre più a Lui fino al dono totale di sé. Auspico che la vostra comunità sacerdotale, aggiunto Papa Francesco, continui ad essere un vivaio di apostoli, punto di unione delle chiese dei vostri paesi con Roma, uniti nella carità e nella testimonianza viva dell'amore di Dio per l'umanità, ed ha concluso esortando i presbiteri a progredire senza stancarsi nella formazione cristiana e sacerdotale, pastorale e culturale.